Accanto a Governo e Parlamento, sulla legge elettorale scendono in campo anche gli studenti. Ha preso il via la campagna Generazione Senza Voto, l'ultima sfida di Erasmus Student Network Italia, una delle più grandi associazioni studentesche europee senza scopo di lucro. L'obiettivo è quello di raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, depositata in Cassazione lo scorso 9 settembre, per permettere agli studenti di votare direttamente dalla sede del proprio scambio europeo, senza dover tornare nel comune di residenza. In campo per dar voce alla Generazione Erasmus, spesso dimenticata ma che alle ultime elezioni europee ha fatto tanto parlare di sé. Perché vogliamo che tutti i cittadini italiani e in particolar modo gli Erasmus italiani che trascorrono un semestre o un anno intero all'estero possano votare direttamente dal paese in cui si trovano. Si tratta di circa 25.000 ragazzi e ragazze che proprio nel momento più importante in cui noi decidiamo e scegliamo i nostri rappresentanti non hanno voce in capitolo. Per sanare questa contraddizione scende in campo Erasmus Sione a Turchi Italia e lancia questa raccolta firme che sta incontrando il sostegno di tante istituzioni sia a livello nazionale, quindi dal lato del MIUR, dal lato anche di alcuni parlamentari che si sono spesi già per l'iniziativa e soprattutto dei comuni. Quindi oggi lanciamo questa sfida che siamo sicuri di vincere nel giro di qualche mese. Noi chiediamo una cosa molto semplice, chiediamo che nel momento in cui venga discusa e poi approvata la nuova legge elettorale non si dimentichino degli studenti Erasmus, perché intervenire successivamente potrebbe diventare complicato anche da un punto di vista tecnico. L'evento è stato anche l'occasione per celebrare l'inizio dell'incontro culturale Erasmus 2014 che vede riuniti in una cornice d'eccezione come solo Roma sa essere oltre 2.000 studenti Erasmus provenienti da tutta Italia. Chiediamo agli studenti di mobilitarsi perché vogliamo far capire che dopo aver fatto l'Erasmus, dopo esserci formati all'estero, possiamo ma soprattutto dobbiamo dire la nostra per questo paese in materia di education, in materia anche di ricerca del lavoro e di unemployment. Possiamo farcela, le idee sono tante e chiediamo solo di avere la possibilità di essere ascoltati.